A Piazza dei Martiri, la grande aiuola che circonda i leoni e la colonna non è più nel degrado. Dopo le segnalazioni, il sindaco Gaetano Manfredi ha preteso un intervento di radicale pulizia dell'intera area. Per il salotto della città arriva la promessa del primo cittadino, grandi pulizie, ogni due giorni, in accordo con l'assessore all'igiene urbana Vincenzo Sant'Agada, che però precisa la soluzione al problema non è quella dei continui blitz di ripulitura. Per il decoro dei giardinetti, infatti, bisogna convincere Clochard ad andare via da quel luogo, dice, offrendo soluzioni alternative di accoglienza e senza fissa dimora. Durante l'intervento di pulizia dell'aiuola sono stati recuperati circa 300 kg di immondizia e 5 materassi. Questi numeri diffusi da Palazzo San Giacomo insieme alle fotografie che testimoniano gli interventi dei lavoratori di Napoli Servizi. Tra le ipotesi per trovare una soluzione definitiva, anche l'installazione di una recensione che impedisca di raggiungere il verde. Ad occuparsi del degrado di Piazza dei Martiri è l'assessore Sant'Agada, promotore di due importanti progetti in città. Agosto Pulito, che prevede la pulizia di 120 strade cittadine, e Decoriamo Napoli, con la quale si interverrà nelle aree verdi della città, dove la SIA non riesce ad arrivare.